Quello che vedete è il lago di Quarto, ovvero quello che era un lago e che oggi presenta ormai solamente i due corsi d'acqua, i due fiumi che una volta confluivano nel bacino l'acustre, il savio che è questo che vedete provenire da ovest e l'affluente minore, il para proveniente dai piedi del monte Fumaiolo. Tutto questo verde anche molto rigoglioso e piacevole per certi aspetti, il canneto che è cresciuto sui limi che nel corso dei decenni si sono accumulati nel lago fino a formare questo vero e proprio campo sul quale è solido di di fango e di melma sul quale è cresciuta tutta questa vegetazione. Quarto, ora coperto da questi alberi, comunque il paesino che abita l'argine a nord del lago, continuiamo a chiamarlo lago. In alto questo monte che domina la vista è il montalto da cui si staccò una frana nel 1812, tutta parte di questa grande massa di terra ostruì il corso del savio, creando questo bacino, questo lago. Negli anni 20 venne poi costruita una diga per sfruttare le acque dal punto di vista elettrico, appunto con una centrale idroelettrica. La nostra intenzione oggi è quella di rendere tutta questo scorcio selvatico, questa oasi unica nel suo genere nella valle del savio e non solo, renderla, dicevamo, fruibile, vivibile attraverso esperienze naturalistiche, uniche, originali, accattivanti. Quindi riscoprire questo luogo sotto una chiave ecologica, di rispetto, ma anche di vita, di creatività, di iniziativa. Possibilmente vorremmo anche poter fare un'indagine sulla possibilità di ripristinare almeno una zona, quella che vedete in questo momento, ripristinarla come specchio d'acqua, comunque nella sua accezione di lago. Quindi poter capire se ci sono delle soluzioni in maniera tale che possano rendere utilizzabile la carneggia a scopi che appunto siamo interessati a conoscere, quali possono essere. il limo sul quale la carneggia cresce e che appunto causa l'interimento del lago, se può essere in qualche modo utilizzato, spostato, gestito in qualche modo e se esistono delle soluzioni per far sì che nuove correnti di piena non si fermino. Di nuovo, una volta eventualmente effettuato una pulizia, un dragamento, eccetera, si possa essere preservato questo luogo da nuovi interrimenti. Probabilmente si potrebbe fare in modo di ricavare un lago, nel lago, isolando tutta questa zona, questo lago che potrebbe ricavarsi in questa zona, isolarlo dalla corrente fluviale, in modo che i lini non vadano a sedimentarsi nuovamente. Parlo a nome di un gruppo cittadino che si sta costituendo, che si è voluto battezzare col nome dirompente, dilaghiamo, per vedere di promuovere queste e altre iniziative per uno scorcio della vallata del Savio, unico, inedito, fino ad ora, facilmente raggiungibile dalla pianura, dal centro urbano di Cesena, con dintorni altrettanto suggestivi da scoprire che possono rappresentare la risorsa del presente e del futuro per la nostra e le prossime generazioni. A voi studio, Giuseppe Satanassi, Lago di Quarto